Le chiacchiere capaci di spellare gli altri, la cupidigia, l'invidia, la mondanità. Purtroppo sono tanti oggi gli idoli e gli atteggiamenti che ci allontanano dal Signore. In occasione dell'Angelus Domenicale, Papa Francesco si è soffermato sul Vangelo odierno, la cacciata dei venditori dal Tempio, chierendo che l'episodio può essere compreso pienamente alla luce della Pasqua di Gesù. Il suo corpo, infatti distrutto sulla croce della violenza del peccato, diventerà nella risurrezione il luogo dell'appuntamento universale tra Dio e gli uomini. I veri adoratori di Dio, ha chiarito il Pontefice, non sono i custodi del Tempio Materiale, i detentori del potere e del sapere religioso, ma coloro che adorano Dio e spirito e verità, specialmente fra i più poveri e i più deboli. Nel tempo di Quaresima, Papa Francesco ha infine chiesto a tutti di lasciare aperta Dio la porta del cuore in modo che possa fare pulizia con tenerezza. Padre, io ho paura che mi bastoni, ma Gesù bastona mai. Gesù farà pulizia con tenerezza, con misericordia, con amore. La misericordia è il suo modo di fare pulizia. Lasciamo, ognuno di noi, lasciamo che il Signore entri con la sua misericordia, no con la frustra, no con la sua misericordia, a fare pulizia nei nostri cuori. La frusta di Gesù con noi e la sua misericordia. Apriamoli la porta perché faccia un po' di pulizia. Dopo la preghiera mariana, nella giornata mondiale delle Nazioni Unite per i diritti della donna e la pace internazionale, Papa Bergoglio ha rivolto un saluto speciale a tutte le donne che ogni giorno cercano di costruire una società più umana e accogliente. Un mondo dove le donne sono emarginate, ha detto, è un mondo sterile.